La legge c'è dal 2014, l'avevo proposta io e fu approvata quasi all'unanimità del Consiglio regionale. Abbiamo protestato in questi quasi tre anni perché l'aggiunta regionale di D'Alfonso e Paolucci non dava attuazione alla legge. Ci sono stati casi eclatanti come l'arresto di Fabrizio Pellegrini che in base alla legge avrebbe avuto diritto a ricevere, tra l'altro gratuitamente, dalla ASL i farmaci a base di cannabinoidi. Adesso è uscito finalmente il decreto, meglio un comunicato che annuncia il decreto perché il decreto su internet non si trova, in cui però la regione limita ad alcune categorie di malati, ad alcune patologie, la possibilità di ricevere questi farmaci preparati a base di cannabinoidi. Però questa non è la legge. La legge non delega l'aggiunta a decidere quali sono i malati e quali sono gli specialisti che possono prescrivere. La legge dice che possono prescrivere tutti gli specialisti del servizio sanitario regionale e poi i medici di base, sulla base di quel piano terapeutico, possono proseguire con le ricette necessarie a quel piano terapeutico. Io sono contentissimo che finalmente sarà nella terapia del dolore per tante malattie molto gravi a disposizione delle ASL abruzzesi, grazie alla nostra legge, la cannabis terapeutica, che è molto meno invadente di altro tipo di farmaci che oggi vengono usati, che tra l'altro sono costosissimi per la nostra sanità. Però questa discriminazione è illegittima e contraria alla legge e io invito Paolucci e D'Alfonso a correggere il decreto.